Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11 ottobre, vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornati. Ovviamente la questione fondamentale riguarda la Turchia, l'attacco che fa in una zona che è di 480 chilometri e può essere massima profonda di 30 chilometri, questo è il cuscinetto in cui avrebbe avuto il via libera dagli Stati Uniti, perché è talmente preciso che qualcuno gli deve aver detto di sì, la Turchia per poter invadere la parte del nord della Siria confinante con la Turchia e su questo ci sono 2 miliardi di commenti oggi sui giornali, in realtà i commenti sono su quello che ha detto Erdogan, cioè che ha detto che se lo continuano a criticare europei e americani, soprattutto gli europei, direi perché gli americani con Trump hanno questa posizione diciamo piuttosto equivoca, beh insomma lui ci sbatte in faccia i 3,5 milioni, anzi i 3,6 milioni di profughi siriani che si tiene a casa. Allora vediamo un po' di considerazioni, la prima l'abbiamo già fatta ieri e cioè a parte le battute cretine e devo dire demenziali di Trump, ne parla oggi Gramellini ma tanti altri sul fatto che i turchi non avrebbero, scusatemi che i kurdi non li avrebbero appoggiati, non li avvisti in Normandia, cioè se è un criterio direi talmente cretino che è simile ai suoi avversari che tolgono l'estato di Cristoforo Colombo perché sarebbe un conquistatore, insomma a parte questa follia storica e cretina di Trump, beh ci sono delle questioni molto più serie, la prima è l'inanità dell'Europa perché l'Europa ha pensato di potersi liberare del problema kurdo, del problema siriano attraverso 3 miliardi che perché l'accordo ne prevede a 6 ma ne ha già dati 3 a Erdogan, intanto fai un accordo con Erdogan, secondo ci sono 3 milioni e mezzo di profughi in un territorio di un paese vicino, terzo sai che Erdogan non è molto attendibile, insomma pensare di aver pagato 3 miliardi per risolvere il problema tenendo una bomba umana in Turchia che potrebbe in ogni momento essere utilizzata come ha minacciato Erdogan per arrivare in Europa non è stata proprio la soluzione diplomatica migliore, tant'è che oggi Erdogan la utilizza, poi c'è una seconda questione, Alessandro Orsini lo dice molto bene oggi sul messaggero, è l'unico forse che esce un po' dal coro e dice beh insomma la Turchia ha qualche ragione, perché ha qualche ragione? Perché è come costituire quello che si stava andando a creare, si stava facendo uno stato kurdo ai suoi confini che per la Turchia è come fare uno stato del Corea del Nord ai confini del Texas o una minaccia che definisce esistenziale per la Turchia, ovviamente e poi c'è tutta la questione kurda, cioè i veri grandi difensori dell'Occidente in quella parte del territorio che ce li rende a tutti noi molto simpatici, ma bisogna cercare di distinguere le diverse posizioni, cioè la simpatia nei confronti di un popolo e la realpolitik che porta ai Turchi a non volere uno stato che loro considerano nemico vicino e utilizzare 3 milioni e mezzo di possibili bombe umane e su questo Michele Sin scrive il pezzo migliore sul giornale e dice beh insomma i kurdi in realtà sono stati i militari più forti contro l'Isis e detengono moltissimi prigionieri ancora dell'Isis, sconfiggere e allontanare i kurdi dal loro territorio vuol dire rimettere in circolazione questo virus dell'Isis e poi dice ovviamente il secondo grande rischio è quello di una grande, forte, nuova e incontrollabile immigrazione proveniente da quella zona. In tutto questo contesto Di Maio, il ministro degli esteri italiano, convoca l'ambasciatore turco. Sapete che risata che si è fatto? Di Maio mi sembra che rilascia un'intervista oggi a Repubblica in cui dice l'Europa non deve cedere. Mi immagino Di Maio che bada in Europa e dice l'Europa non deve cedere, ma siccome questa cosa qui è fatta da Di Maio e non più da un'Europa con Salvini, i giornali italiani ci credono e gli danno credito. Nel frattempo quello che mi ha divertito di più di tutte le questioni di politica estera è questa ministra, ex ministra della difesa francese Goulart, che non è riuscita a farsi passare come commissaria dal Parlamento europeo che le ha votato contro. Si tratta di uno schiaffo a Macron pazzesco, ne parlano tutti i giornali e ovviamente la cosa più interessante ce la racconta il Corriere della Sera perché riesce in una pagina a scrivere tutto il contrario di tutto. Mi spiego meglio. Caizzi ci spiega che questa signora non è diventata commissaria europea perché avrebbe, anzi non avrebbe, ha avuto dei fondi dall'Unione europea per lavori non documentati, quindi ha commesso l'irregolarità nei confronti dell'Unione del Parlamento europeo, tant'è che ha dovuto restituire 45 mila Euro di fondi non documentati, in più aveva una consulenza in conflitto di interesse con un think tank americano. Questo è il pezzo di Caizzi, cioè che dice che l'Europarlamento le vota contro perché c'erano dei seri conflitti di interesse sotto, e soprattutto c'erano dei truschetti fatti quando era parlamentare europea del Partito liberale tedesco, sotto Montefiori, stesso giornale stessa pagina, dice che in realtà non c'era nessun problema giudiziario, che si tratta soltanto di uno schiaffo a Macron, perché lo stesso Macron ieri dice che aveva detto alla von der Leyen, cioè la Presidente della Commissione europea, che c'era una terza di persone che poteva diventare commissaria europea e la von der Leyen ha detto non c'è nessun problema, prendi la mia ex collega, diciamo, Goulart, perché entrambi erano ministri della difesa, uno francese e l'altro tedesca. Mi fa veramente ridere questa storia perché da una parte ci sono le questioni giudiziarie, dall'altro c'è Macron che si fa le passeggiate con Bono, un'ora e mezza di passeggiata con Bono, sostiene Montefiori. Ma dico, un Presidente francese, ci avrà qualcosa da fare di meglio che stare con un cazzone a fare un'ora e mezza di passeggiata con Bono, ma mentre faceva questa passeggiata con Bono diceva che non sapeva che cosa fosse successo in Europa, per cui gli avevano fatto fuori la sua commissaria europea. Trovo straordinario, cose serie, economia, tutti godono, soprattutto il fatto quotidiano, delle manette agli evasori, dell'abbassamento delle soglie penali, della lotta all'evasione. Prima questione, questa roba qui, come ci spiega il Sole 24 ore, non servirà a riempire i 7 miliardi che servono per chiudere la finanziaria. Seconda questione che pone il giornale, ragazzi ma siamo impazziti, cioè più manette per gli evasori, vorrebbe dire riempire le carceri di evasori che ci costano tantissimo se davvero ci si riuscisse, cosa che ovviamente non avverrà mai. Quello che succederà ed è garantito è che questa roba farà male a pochi e farà malissimo a quelli che finiranno in questa specie di gorgo giudiziario e amministrativo per cui adotteranno per gli evasori gli stessi criteri che si adottano per i mafiosi. E qualche cazzone di voi che può essere contento sbaglia, perché la logica per la quale si tratta un evasore come un mafiose è una logica emergenziale che non esiste, perché come dice Tremonti abbiamo inventato questo numeretto dell'evasione e l'abbiamo fatto una specie di fantoccio. L'evasione talvolta è di necessità, talvolta è sacrosanta, avete sentito? Sacrosanta e la grande evasione viene comunque perseguita con dei mezzi che già oggi sono penalmente rilevanti, quindi questa è una cosa che fotterà le persone più piccole, più deboli e meno difendibili, ma comunque al fatto va bene perché vuole che tutti noi si sia sotto la scure dei loro amici magistrati. Pensate un po' voi, il sequestro dei beni del condannato, anche se prescritto, anche se non c'è più il reato, se non riesce a dimostrare il condannato la legittima provenienza dei suoi beni, che sembra una cosa ben detta, va a finire che vi faranno un mazzo così e ci sarà una prova diabolica che dovrai dimostrare perché c'hai 50 mila Euro sul conto corrente da dove arrivano. Comunque i contanti secondo Italia oggi scenderà la soglia, è l'unico giornale a scriverlo da 3.000 Euro a 1.000 o 1.500 Euro e questa è un'altra delle follie italiane per cui pensiamo di combattere e di aiutare il commercio, altro che combattere riducendo le soglie dei contanti, io non sono a favore dell'evasione, non ne vado neanche un Euro, ma se si pensa che in questa maniera si combatta l'evasione si ha una follia. Nel frattempo il Nadef, cioè il documento finanziario, la cornice del documento finanziario italiano è stata approvata ieri attraverso ovviamente una risoluzione dal Parlamento con soli 3 voti di maggioranza, 319 voti, erano necessari 316, non un buon segnale per il governo, lo dicono un po' tutti quanti i giornali e i commentatori dell'opposizione. Altre due o tre questioni, una di economia all'Iftalia, si fa sempre più avanti in Lufthansa che secondo il Corriere della Sera, ma non solo, non si riesce a capire come possa entrare visto che non ci mette neanche il becco di un quattrino, ma dice solo che vuole fare un'alleanza commerciale con Alitalia. Vade retro, direi io. Mentre per quanto riguarda Repubblica ci sarebbe la possibilità che Delta, gli americani di Delta, aumentino la loro quota di capitale dal 10 al 15%. Staremo a vedere. Ultime due notizie, la festa del Movimento 5 Stelle disertata da alcuni suoi storici esponenti, Giulia Grillo e Barbara Lezzi, e uno si chiede perché disertate, voi che siete state ministri fino a ieri, qualche dubbio ci viene. Paragone e fattori, mi sembra che invece disertino, che sono altri due nomi storici del Movimento 5 Stelle, per critiche che stanno facendo in maniera più esplicita, senza posticini di lavoro che ieri il Movimento 5 Stelle non ha loro trovato. Non si mettono d'accordo su nulla e staremo a vedere cosa succede. Ultima cosa, la verità, il Babbo di Renzi, che è stato condannato recentemente per fatture false, mi sembra, la verità va avanti come un treno. Secondo la verità, tra le altre cose che hanno sequestrato il Babbo di Renzi, sono sei schede SIM e una di queste sarebbe bosniaca, di un extra comunitario, forse per non farsi intercettare, sarebbe favoloso se così fosse. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre a domani con la zuppa di porro e sul sito, fra poco ci sarà un pezzo che vi spiegherà tutto questo inganno di recupero dell'evasione attraverso le compensazioni fiscali. Vi dico soltanto una cosa che sarà un modo per togliere ancora liquidità alle piccole imprese, ai professionisti che non potranno compensare sopra 5.000 euro di rimborsi fiscali, cioè cose che dobbiamo avere indietro se non dopo la presentazione telematica della dichiarazione di redditi. Appare tecnica, ma la sostanza è questa, lo Stato mi deve dai soldi, ciao Core, ci mette un bel po' per darmeli. Ciao!